La strage di Addis Abeba, trovate le scatole nere, ma una sarebbe danneggiata del Boeing 737 MAX precipitato con 157 persone a bordo. Sospetti su un software che correggia in automatico la quota di volo. Etiopia, Cina e Indonesia decidono di lasciare a terra gli aerei di quel modello. Dolore e shock per le otto vittime italiane. La procura di Roma apre un'inchiestia. Disastro aereo in Etiopia, trovate le scatole nere del Boeing 737 precipitato con 157 persone a bordo. Averia meccanica o difetto informatico? Queste le possibili cause della tragedia che si è consumata in sei minuti. Sotto accusa i vediboli dello stesso modello. Lutto per i nostri otto connazionali. Il figlio dell'archeologo siciliano era l'uomo più forte che conosco. Trovate le due scatole nere dell'aereo precipitato ieri in Etiopia. Tra l'ipotesi della tragedia e il software del nuovo modello che gestisce i dati per l'assetto in volo. Disastro aereo di Addis Abeba, ritrovate le scatole nere. Molti paesi, ma non l'Europa, lasciano a terra il Boeing 737 Max. Dopo lo schianto di Addis Abeba, Etiopia, Cina, Indonesia, lasciano a terra i Boeing 737 Max. Trovate le scatole nere. Nel mirino il nuovo software antistallo. Forte commozione per la morte degli otto italiani a bordo. Tutti impegnati in attività umanitarie. Telt, la società che ha il compito di gestire e realizzare la TAV, ha avviato l'iter per la costruzione del tunnel di base con l'invito alle aziende a candidarsi per i lavori dei tre lotti francesi. Si tratta della fase preliminare senza però alcun vincolo. La procedura può essere interrotta in qualsiasi momento, ma lo sblocco permette di mantenere il finanziamento europeo di 300 milioni. Per la Lega sono partiti i bandi, per i 5 Stelle no. Di fatto il governo guadagna sei mesi di tempo per decidere. Aereo precipitato, sempre più probabile un'anomalia nell'indicatore di velocità, gli allarmi del pilota che non riusciva più a governare il Boeing per l'inattendibilità dei dati. Eccoci qui, abbiamo visto insieme le aperture dei telegiornali della sera, la cui attenzione oggi è stata calamitata soprattutto dalla tragedia nei cieli di Etiopia. Il Boeing è partito e purtroppo schiantatosi pochi minuti dopo il decollo. Attenzione anche al cantiere della Tav, alla questione Tav che continua a essere politicamente molto pericolosa. I cantieri della Tav sono pericolosi politicamente, noi stasera vogliamo parlare anche di altri cantieri pericolosi, come per esempio quelli di Finmeccanica, che oggi si chiama Leonardo, è la principale industria militare del nostro paese, i cui cantieri sono pericolosi innanzitutto per ciò che vi si assembla, quindi armi, elicotteri, parti di aerei militari. Lo sono poi perché, data la materia di cui si occupano, sono al centro delle tensioni geopolitiche del momento. Lo sono infine, o almeno lo sono stati in passato, per i rapporti opachi, torbidi, addirittura criminali, intrecciati. Ed è incredibile per un'azienda di Stato che opera in un settore così delicato e strategico, addirittura con soggetti mafiosi. Di questi argomenti parleremo insieme ad Alessandro Darold, giornalista che ha dedicato proprio a questo tema una sua recente inchiesta. Benvenuto Alessandro, lo vedete in collegamento da Milano. Buonasera a tutti, buonasera, buonasera a tutti. Allora, prima di affrontare questo argomento, concentriamoci sui fatti del giorno. Quali dei fatti del giorno ti colpisce di più e perché? Ma, evidentemente, la questione TAV è quella più rilevante dal punto di vista politico per il Governo, in quanto dopo gli echi di crisi di Governo delle scorse settimane sembrava fossimo già praticamente prossime a elezioni anticipate, invece si è trovata una soluzione, o meglio Conte, il Premier Conte, ha trovato una soluzione che di fondo dà un scampo di vittoria sia alla Lega che ai 5 Stelle. La Lega può dire che i bandi vanno avanti, anche perché vengono sbloccati i fondi europei di 300 milioni, TELTA oggi, CDA, lo ha ratificato, allo stesso tempo i 5 Stelle riescono a prendere tempo e riescono a mantenere, secondo me, lo zoccolo duro del loro elettorato, in particolare in Piemonte, dove ci saranno le elezioni regionali a maggio e dove dopo le ultime elezioni i 5 Stelle rischiano di perdere ancora più consensi. La questione TAV fa ancora mormorare e molto il palazzo, di questo si occupa il Montecitorio Selfie di questa sera, guardiamolo insieme e poi riprendiamo la nostra discussione. Allora, dimmi la verità, ma qual è la verità in questa storia? In parte, Alessandro, lo accennavi già prima, l'impressione è che sembra si sia alzata una cortina fumogena per evitare di dire qualcosa che nuocerebbe molto politicamente a uno dei due partner di governo. In Francia, infatti, non battono ciglio, per loro la TAV va avanti, ma se così fosse avremmo un ulteriore salto di qualità, per così dire, in negativo, dalle fake news alle fake politics. Tu come la vedi? Ma, insomma, è una fase del governo molto difficile che ormai si trascina da mesi, secondo me, perché non è solo la TAV il problema che distanzia le due parti. Ci sono anche questioni di tipo etico, c'è stato uno scontro sul prossimo Convenio delle Famiglie che ci sarà a Verona. Ci sono ancora delle nomine importanti da portare avanti, quella dell'Agicom. Anche su Consob è stato trovato il nome di Savona, ma ci sono ancora alcune difficoltà nel ratificare la scelta. Insomma, Salvini e Di Maio sono sempre più distanti. Conte cerca di fare da mediatore. Ci avviciniamo alle elezioni europee dove probabilmente i rapporti di forza cambieranno, ma non si sa neanche bene come cambieranno, anche perché bisogna aspettare il risultato di fondo. Il governo regge anche perché non c'è al momento un'alternativa valida. Quindi è evidente che la sinistra e il giro di sinistra si stanno ancora riorganizzando, appena ha cambiato il segretario, però ci sono gli appuntamenti elettorali poi da portare avanti. E quindi è evidente che la questione TAV rischia da un lato alla Lega di perdere parte dell'elettorato al Nord, che è già abbastanza, diciamo così, arrabbiato anche per delle provvedimenti come il reto di cittadinanza che non hanno digerito molti industriali, molte imprese del Nord Italia. E dall'altro lato i 5 Stelle cercano, che sono in caduta libera secondo i sondaggi, poi sondaggi dipendiamo sempre con le pinze, però sanno perfettamente che in Piemonte hanno il loro bacino fortissimo, quella contro l'opera in Val Susa. E quindi c'è quindi di attaccarsi a questo, anche per tenere salde un po' e serrate anche i ranghi. Certo, insomma, un veicolo cieco, un chiul de sacco, se preferite, data la materia, un binario morto. Allora, adesso vediamo le altre notizie del giorno e poi affrontiamo la questione fin meccanica, le relazioni improprie che ha intrecciato nel passato, addirittura criminali. Gli altri titoli e poi torniamo in studio. Investe in auto l'ex della moglie, poi gli spara davanti ai due figli uccidendolo. È successo in pieno giorno alla Spezia. Poco dopo l'assassino si è costituito un sotto ufficiale dell'aeronautica. Per la polizia, il movente è passionale. Albano è una minaccia per l'Ucraina. Il cantante di Cellino San Marco, inserito nella lista dei 147 individui più pericolosi per il paese, Sovversivo io? È inaccettabile che mi trattino come un terrorista, dice l'artista. Mi sono esibito per Putin e allora l'ho fatto anche per il Papa. Chiamerò subito l'ambasciatore. Nuove conferme delle infiltrazioni mafiose al nord scoperti i rapporti con l'Andrangheta dalla Lombardia al Veneto e in Puglia intimidazioni contro il sindaco di Monte Sant'Angelo. Roma si spacciava per regista, l'uomo arrestato per violenza sessuale, vittime anche minorenni, denunciato dai collaboratori. Nel 2018 in Italia 42 mila patenti ritirate e oltre 2 milioni di punti persi. Uso del cellulare alla guida e alterazione dovuta ad alcol o droga le prime cause di violazione del codice. Gli automobilisti lombardi, i più indisciplinati, i pugliesi, i più virtuosi. La partecipazione dell'Italia al progetto cinese della via della seta non piace agli Stati Uniti e preoccupa anche l'Unione Europea. Conte firmerà gli accordi che sono commerciali ma anche culturali tra qualche giorno quando ci sarà la visita di Xi Jinping. Accordi che sono destinati a creare un nuovo fronte però, a quanto pare, tra i due alleati di governo. Salvini ha dichiarato che è favorevole aiutare le imprese italiane ma rifiuta ogni tentativo di colonizzazione. Vediamo subito il lavoro, l'inchiesta di Alessandro Darold che è sfuciata in un libro uscito da poco per chiare lettere Pecunia non ho letto il denaro non puzza la mafia nell'industria pubblica il caso fin meccanico. Sono argomenti di strettissima attualità ve lo dimostro facilmente andando a recuperare un giornale di oggi la stampa da fin meccanica a fin cantieri le imprese preoccupate dalle ritorsioni e ci agganciamo anche all'ultimo titolo della sette che abbiamo appena visto questa ipotesi di accordo con la Cina potrebbe avere ritorsioni per le commesse importanti di fin meccanica però Alessandro aiutaci a capire bene tutto e a farlo capire a tutti partiamo proprio dall'ABC ricordaci cos'è fin meccanica oggi Leonardo e la sua importanza Allora è una delle aziende più importanti di questo paese è un'azienda strategica che produce velivoli sia civili che militari esperta di elicotteristica nell'aviazione nell'elettronica nei sistemi di difesa nei sistemi elettronici di difesa quindi è un'azienda che è abituata a operare sui mercati internazionali per questo strategica fondamentale per la nostra diplomazia ricordo che fin meccanica l'attuale Leonardo è impegnata già in alcuni progetti in Cina a fine aprile ci sarà il bando per il bando di gara per Comac perché è un velivo di lungo raggio a cui Leonardo potrebbe partecipare a ottobre sono state cedute anche 15 elicotteri c'è stata una lettera di intenti per cedere 15 elicotteri quindi insomma fin meccanica opera in tutto il mondo è impegnata anche negli Stati Uniti dove è dal 2008 in un progetto molto importante con il Pentagono di RS e si espande anche all'estero quindi anche in Cina quindi è evidente che la vicenda attuale insomma gli accordi che verranno stipati all'Italia sulle vede della seta siano fondamentali anche per un'azienda così importante non solo fin meccanica ma anche per tutti gli altri grandi players pubblici parodieni, di fincantieri di Terna, di Snam e via ancora Invece chi è Vito Roberto Palazzolo? Ecco Vito Roberto Palazzolo è il protagonista del mio libro perché logicamente essendo Leonardo un'azienda abituata a operare all'estero spesso e volentieri si è appoggiata in passato a agenti commerciali sul territorio che non erano particolarmente diciamo così positivi anzi spesso erano dei veri e propri criminali il mio libro vuole cercare infatti di raccontare gli ultimi anni insomma di questa divisione poi di meccanica ricordo che Leonardo adesso è integrata il libro parla soprattutto di Augusta Westland che è l'attuale divisione elicotteri di Leonardo e racconta appunto di come un latitante mafioso nel 2009 si è riuscito a entrare a un'ambasciata italiana di Luanda per un incontro istituzionale organizzato dal ministro del sviluppo economico proprio per fare business sono quegli incontri che spesso e volentieri ci sono all'estero dove aziende locali incontrano aziende internazionali si cerca di vendere commesse fare affari peccato che nel 2009 a Luanda ci fosse anche Vito Roberto Palazzolo che era latitante perché è condannato in Cassazione per la cessazione mafiosa personaggio che ricorre nella storia del libro anche perché Giovanni Falcone lo ricercava già negli anni Ottanta era già stato coinvolto in Pizza Connection e da quell'incontro si dipana anche parte del libro poi adesso Palazzolo è stato poi arrestato fermato nel 2012 a Bangkok e arrestato nel 2013 si trova nel carcere di Ropera dove sta scontando la sua pena però il libro vuole un po' raccontare come le nostre aziende pubbliche ma come anche tante aziende anche estere operano in contesti complessi e difficili come possono essere quelli africani ma anche altri contesti internazionali dove spesso e volentieri il denaro non puzza ecco pecuniano lollet quindi si chiude un occhio pur di portare a casa un affare ecco davvero sconcertante questo rapporto improprio con un latitante mafioso meno sconcertanti e meno impropri sono i rapporti che invece questa azienda di Stato il cui principale azionista è lo Stato siamo noi in treccia con la politica di cui pure parli nel tuo libro guerre diciamo così per le nomine e ovviamente colpi bassi e mi ha colpito che alcuni protagonisti di cui parli sono ancora sulla scena e attivi oggi penso per esempio al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giorgetti ecco ci vuoi aiutare a capire queste commistioni tra politica e l'industria militare di fin meccanica Leonardo certo Leonardo è controllato al 30% dal ministro del Tesoro quindi è controllato dallo Stato sono nostri soldi e quindi di rimando dalla politica quindi logicamente in questi anni almeno da più o meno da quanto seguo io le partecipate italiane ogni scadenza di mandato dei vari mestri delegati o presidenti o il costitore di amministrazione c'è sempre una guerra interna alla politica tra chi ha il governo in particolare che vuole imporre i propri consigli di amministrazione nel 2011 quando ci fu la famosa guerra tra la successione di Guarguaglini per la nomina di Giuseppe Orsi ci fu appunto una mano pesante da parte della Lega Nord che è legata anche dal punto di vista territoriale è geografico perché la divisione di elicotteri ex Augusta Westland si trova nelle fabbriche gli stabilimenti stavano a Varese e quindi ci fu chiaramente Giorgetti è stato sempre uno dei massimi attori della partita delle nomine come lo è tuttora come lo è adesso e lo fu anche allora quindi la politica ha sempre avuto la mano pesante su queste aziende anche perché sono chiaramente degli avampossi fondamentali anche dal punto di vista politico e strategico internazionale come dicevo prima certo i volentieri purtroppo le ultime inchieste negli ultimi dieci anni hanno dimostrato che tra la politica e poi le aziende si crea spesso un mondo di mezzo di faccendieri o persone poco note come loro lo stesso Palazzolo ma come è stato anche Massimo Carminati che si avvicinano anche perché sappiamo benissimo che le nostre aziende pubbliche sono molto ricche e le commesse sono milionarie certo volevo chiederti questo riprendendo un po' quanto accennavi anche in precedenza questo tipo di a questo tipo di business così particolare non è forse consustanziale proprio una certa opacità ovvero forse è difficile distinguere i cavalieri della luce puri dai cavalieri delle tenebre diciamo totalmente negativi cioè si agisce tu lo dicevi anche in Africa forse in situazioni di chiaro scuro lo ricordiamo lo ricordiamo lo ricordi anche tu nel libro che attualmente noi siamo tagliati fuori da un mercato importante come quello dell'India proprio perché c'è una storia di una maxi tangente ancora non del tutto chiarita assolutamente sì la famosa commessa di 12 elicotteri con Nova Delhi di 550 milioni di euro l'inchiesta che va avanti in India che non è ancora finita in Italia c'è ancora un'assenza di cassazione dopo diversi condanni e assoluzioni nelle precedenti gali di giudizio però se posso permettermi all'interno del libro si parla anche di una parte positiva di chi cerca comunque di operare di un dirigente di meccanica che sarà quello che incontrerà a Palazzolo a Luanda e è una parte diciamo così più che positiva del libro si chiama Francesco Maria Tuscillo è un avvocato che trovando di fronte a una persona del genere si allarma particolarmente insomma gli anticorpi esistono anche nelle aziende statali e quindi c'è anche una parte positiva ecco nel libro di chi cerca anche di combattere comunque il malaffare e di evitare che personaggi così loschi possono avvicinarsi alle nostre aziende pubbliche così importanti e questo richiamare diciamo così le luci che si accendono mi sembra il modo migliore Alessandro per concludere la nostra conversazione grazie per essere stato con noi grazie a voi non so se abbiamo quella telefonata no magari la recupereremo nei prossimi giorni allora ringrazio anche voi che ci avete seguito da casa il nostro dulcis in fundo stasera è per Liza Minnelli domani è il suo compleanno allora New York New York poi se volete ci ritroviamo domani ciao 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 Grazie a tutti.